Merita giusti approfondimenti la vicenda della pista ciclabile di Brindisi in essere tra via Palmiro Togliatti e via Laldomoro, battezzata la pista della discordia, l'eterno incompiuta. La questione è stata posta nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale in un'assise monotematica da Roberto Quarta di Fratelli d'Italia, il quale ha interrogato il sindaco Giuseppe Marchionna. Il primo cittadino approfondirà le problematiche entro il 5 aprile. Le piste ciclabile continuano a sostenere che dovrebbero essere fatte, ma come si dice in sede promiscua, cioè solamente con la linea tratteggiata che in caso di emergenza può consentire il passaggio dei mezzi di soccorso o altro. Naturalmente questo contrasta con la previsione del progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e pone la famosa questione di anni rariali. Su questo stiamo molto studiando, non escludiamo la possibilità di riuscire a risolvere questo problema, evitando quindi da un lato un'opera che la gente non vuole e che considera non solo inutile ma anche dannosa, e dall'altro però bisogna tutelare anche assessori e consiglieri che non è giusto che vengano chiamati in causa per danni rariali, peraltro per un progetto che non è stato approvato neanche da questa amministrazione ma dalla precedente amministrazione. Ovviamente tecnicamente non sono soddisfatto perché non si è entrato nel merito delle domande e quindi non ci sono state le risposte dettagliate e analitiche come avevo chiesto, ma abbiamo sentito tutto l'impegno del sindaco a prossimo consiglio comunale, quello più vicino che sarà forse dopo Pasqua, il 5, quindi di affrontare proprio l'argomento e quindi mi ha dato anche lo spunto di presentare la mozione per fare ordine del giorno, così si ha l'opportunità eventualmente di fare intervenire anche gli altri consiglieri perché ci sono aspetti di questa vicenda che effettivamente neanche i miei colleghi conoscevano. Io sapevo del suo pensiero, che è lo stesso mio praticamente, non contro le piste ciclabili, ma siamo consapevoli che in quel modo e fatto in quella zona può fare soltanto danno alla città.